Episodi spiacevoli come rumori molesti e schiamazzi fino a tardanotte, che talvolta sconfinano in risse, caratterizzano sempre più spesso la movida serale cremonese. Residenti ed albergatori lamentano carenza di controlli e chiedono di coniugare l'esigenza dei locali di lavorare con la tutela della sicurezza e della quiete pubblica. Noi abbiamo in generale una situazione particolare di attività, una in un vicolo strettissimo e l'altra in una piazza frequentatissima. Quindi ci vuole la necessità di applicare la maggiore sensibilità possibile ai luoghi particolari, perché il vicolo Bordigallo è largo 3 metri e le case sono alte 3 piani. In certi momenti, in certi orari, in più giorni della settimana non si può assolutamente passare, quindi il problema di sicurezza è inevitabile, c'è. Di fatto in questa situazione la vigilanza è un onere a carico dei locali. Noi ci consideriamo come albergo parte l'ESA perché ovviamente non produciamo rumore ma lo subiamo. Abbiamo un piccolo ristorante che chiude alle 10 e in quel vicolo lì ci sono tre esercizi di cui due sono aperti fino a tardi, che quindi accettano clientela fino a tardi. Noi dovremmo, credo, dividere la gestione di una vigilanza privata. Riuscire a metterci d'accordo in una situazione così complicata che sia un po' purtroppo diventata litigiosa perché ci sono di mezzo delle attività economiche non sarà facile. Quindi io faccio appello al Comune o a chi deve esercitare il controllo ad avere attenzione a questi aspetti.